Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Christian Ferrara alla Premier League di Parigi. Nell'importante torneo internazionale, valido per acquisire punti in vista delle prossime Olimpiadi, l'atleta erpino è stato battuto da Mohamed Ashraf. 5-3 il risultato della contesa tra i due karateki con l'avversario egiziano, subito in vantaggio per 2-0. Ferrara però, nonostante la minore esperienza e la giovane età, ricordiamo che si tratta di un atleta appena 18enne, è riuscito a riprendere il match portandolo addirittura in proprio favore sul punteggio di 2-3. Da questo punto in poi però c'è stato un controllo magistrale da parte di Ashraf, che ha ribaltato il trend dell'incontro definendolo in proprio favore con il punteggio finale di 5-3. Nonostante la sconfitta, Ferrara può ritenersi soddisfatto poiché, ad appena 18 anni, ha avuto l'occasione di confrontarsi con atleti di gran lunga più esperti. Sette volte cadi, otto volte ti rialzi, un detto del karate che Christian ha ben saldo in mente.